una Fed pro-dollaro. La Federal Reserve ha confermato ieri sera la decisione di mantenere invariati i tassi di interesse, in linea con le aspettative dei mercati. Allo stesso tempo, la Fed ha indicato che si aspetta un altro aumento dei tassi prima della fine dell'anno e minori tagli l'anno successivo, rispetto a quanto precedentemente previsto. Questa decisione di mantenere i tassi fermi è stata presa nel contesto di una serie di aumenti dei tassi iniziati, a marzo 2022. Se il previsto aumento finale si concretizzerà, si tratterà del dodicesimo aumento in questo ciclo di politica di restrizione monetaria. I tassi di interesse sono rimasti nella fascia compresa tra il 5,25% e il 5,5%, il livello più alto degli ultimi 22 anni. Questo tasso ha un impatto significativo sui tassi di interesse per i prestiti tra le banche e si riflette anche in molte forme di debito dei consumatori. Per maggiori informazioni visita il sito www.zegosonline.com oppure se vuoi ricevere i nostri servizi in prova gratuita per un mese scrivi a infochiocciola zegos.com. Zegos offre solo servizi informativi ed analitici sui mercati finanziari. Non esercita in alcuna forma l'attività di consulenza personalizzata in materia di investimenti.